Benvenuti a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale Il nostro nuovo video è come al solito, io sono Gabriel Birillo Oggi andremo a farvi vedere i nostri 4 liquidi nuovi Vai Birillo, esponiceli Allora, sono 4 aromi che abbiamo composto noi con la base 70-30 Abbiamo aggiunto 10 ml di aroma, 80 di basetta 70-30 E chi ci vuole mettere la nicotina? La nicotina Noi abbiamo fatto i veri carichi, almeno si sente bene l'aroma Ora andiamo a fare la prova di questi 4 liquidi Allora, il primo che andiamo a provare si chiama Irish Cream Allora, ricordiamo che l'aroma è della Dream Moths Presi dal suo pocaffè Ricordiamolo, Marina di Carrara Molicciara E la spezia è andata da trovare a una sortita scorta di aromi liquidi Se uno si vuole fare un liquido e fare qualche miscela c'è infinità dei liquidi Allora, ora andiamo a fare la prova di questo Irish Cream Che sarebbe un liquore alla crema di caffè Vai Gabri, lui sul tubo, io sulla Wismac con l'Iton 22 Un single coil L'olfatto si sente molto liquore Sono degli aromi molto, diciamo, concentrati, buoni Liquore al caffè Si sente bene la ricorosità dell'aroma Si Il caffè Fumo in fanno Essendo una vasetta 70-30 Tranquillo Buono, eh? Buono Che voto ci dai questo liquido? Quattro Perché è molto fedele e si sente tutto quello che si deve sentire Si Molto buono Anche bello e dolce, eh? Si Bello e dolce, ti lascia un mo' sapore in bocca Chi è amante del caffè e dei liquori, così, dopo, eh Dopo mangiato ci sta, che ti dai una sbacchiatina, qualcosa di dolce, di, di, di cuoroso, di Poi andiamo a fare la prova del secondo liquido VCT Reserve Tabacco vanigliato Tipo quello della Rip V Vai Gabri È un tanto secco un po' Sono molto buoni questi arugliettivi, eh La vaniglia si sente Anche a risposto un po' Sì Ci sono altri ingredienti all'interno Simile a quello da Rip V Si Però a questo do un se Un se amante, un sbacchiatino No Per me non è a livello di quell'altro L'altro è più lucratiente Magari è uno che piace, eh Puoi dire No, gusti ma Insieme Un pochino più dolce C'è l'altro Questo quanto è più grande Bene Ora andiamo a fare la prova del terzo liquido Mars, snack, caramello, cioccolato E poi è bello di questi liquidozzi Di sopra Hanno un numero Quasi al numero C'è il numero C'è il numero Il numero C'è quella cosa C'è quella cosa a questo ci do di nuovo no, mi piace sposa la voce la voce di Questa è la palla 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 La palla è la palla Ho fatto troppo bene Ti ascia il gusto un po' tra la manucciola Paolo luce Questo voto no E' tanto no E' uno dei cremosi di bordo Sì E' un sottacchetto di liquidi Ho provato proprio bene Vai a vedere un po' che dici Ma però Vado sopra Vado sopra Vado sopra Vado sopra Vado sopra Crema così Vado sopra 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 Se avete un video Vi lascia un like Iscrivetevi al canale E ricordatevi che abbiamo Fasso su Instagram Ciao Grazie a tutti, ciao